Siamo a rally di Roma, praticamente a metà stagione, mancano sostanzialmente quattro risultati e mezzo perché l'ultima gara di campionato ha efficiente 1,5 e io questa gara non l'ho mai fatta purtroppo. Una gara bellissima, dopo le ricognizioni posso dire che è uno dei tracciati più tecnici e difficili che ho affrontato qui in Italia. Abbiamo cercato di preparare bene questa gara, non siamo stati fortunatissimi perché abbiamo fatto una giornata di test prevalentemente sotto l'acqua. Nonostante tutto adesso abbiamo fatto la qualifying stage e le soluzioni che abbiamo adottato di setup sembrano funzionare molto bene, sia per lo sconnesso che è una caratteristica di questa gara, sia per le curve lunghe, le traiettorie, come si suol dire in gergo, per tirare le traiettorie. Devo dire anche che ho avuto un gran filico alle gomme Pirelli, la qualifying stage era sporca, sconnessa e veramente ho avuto un ottimo grip, quindi sono sicuro di poter disporre di un gran prodotto. Ovviamente vedremo perché l'incognita percorso per me è la parte a questo punto più importante, siamo qui per cogliere un buon risultato, un ottimo risultato, feeling con la vettura sta crescendo e speriamo di trovarlo anche da subito con le strade. Grazie a tutti.